Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di youtube Oggi con questa guida vi farò vedere come poter risolvere una quest davvero un po' complicata Che ci viene segnalata male con l'automove Innanzitutto la quest di cui sto parlando è esattamente questa A question Dobbiamo parlare con quest'npc Gazz2Valket ci dice che sta sopra la montagna Ma se noi facciamo l'automove non ci porterà da nessuna parte Quindi adesso vi spiego come si fa Dovete esattamente raggiungere questo punto del canyon Poi dovete salire da qua Sulla destra Ok è un po' difficile il percorso Salite tutto qua su Proseguite dritto costeggiando questa montagna Salite ancora Salite tutto su E proseguite sempre qui dritti in questa direzione Ecco qua All'npc Era bello nascosto ma alla fine l'abbiamo trovato Ebbene ragazzi per questo era tutto Se avete dei dubbi e dei problemi Lasciatemi pure un commento sotto questo video E se vi è stato d'aiuto questo video Lasciatemi un like E iscrivetevi al mio canale Alla prossima Alla prossima Alla prossima